Se volete acquistare i crediti potete andare su fifacoinsbuy e inserendo il coupon FEDEMARCONI avrete un 6% di sconto Posso togliermi i pantaloncini dalla testa che sembro ritardato Signori bentornati dopo un po' di tempo su FIFA Siamo qui con l'ultimo video dell'anno appunto su FIFA 15 Io ringrazio tutti per il sostegno che mi avete dato Oggi però è tempo di festeggiare quindi vi lascio al video Godetevelo e vi ricordo anche di passare in descrizione per il canale di Menzo Bella Bella ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale Benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo con un ospite per concludere la nostra avventura su FIFA 15 Perché questo è l'ultimo video che ci farò Aspetta non so come presentarti È un problema Ciao da tutti ragazzi sono sempre Menzo Benvenuti in questo nuovo video sul canale di Federico Grande Allora presentiamo un po' la partita Sarà Roma-Inter chiaramente che sono le nostre squadre Guarda la formazione porcchittiasi è tutta sbagliata la mia Come è tutta sbagliata? Sì Ce l'ha almeno i giocatori Porca puttana sta scavando il tempo Non fare pronto esci esci Esco esco No non ero pronto io Come mi dai pronto ma 42 seconde Nel mentre che Menzo si prepara psicologicamente Volevo dirvi che vi lascio chiaramente il suo canale in descrizione Nel quale troverete anche la partita che abbiamo fatto sul suo canale Quindi andatela a vedere E volevo anche Ci tenevo a dirvi che Menzo sa il russo E quindi quando segnerà parlerà il russo Vero Menzo? Sì vabbè non esageriamo Cioè non è che ne so proprio così tanta Tra Fede e Menzo ragazzi giochiamo con le rose aggiornate Quindi chiaramente della stagione ormai 2015-2016 Partiti Ragazzi io non avevo la maglietta dell'Inter Come potete notare C'ho i pantaloncini in testa Io non vedo l'ora di montare sto viso Voglio vedere in che condizioni stai Ti giuro sembra una signorina dell'Isis Una signorina dell'Isis? Sì una signorina Per essere anche gentile Ma dov'è la minimappa quando serve? Ah è vero non c'è Rodrigo Palasso Attenzione C'è Brozovici il tiro da fuori Non va Non va Ma c'è tutti i centrocampisti io Eh ma con la pioggia vanno lentissimi Occhio che c'è Raja Buonissimo Palla dentro per Salah Uccidilo Ma come è Gatomo su di lui Salah lo vuole esaltare Ma avvia molto bene Salah in era di rigore Rientra sul destro Calcia in porta Andanovic Santa Andanovic Mamma mia Che cazzo ci fa che è Gatomo là? Occhio al cross di Maicon Sul secondo pallo C'è Pjanic che la va a raccogliere No così però Si riparte Si riparte Di qua con No è questo C'è come Superisic Capirai io c'ho Maicon di là Occhio Se non è Palasso Rientra Buono è rassuntato Ancora Palasso Ora metti dentro Per Riccardi Mauro Riccardi L'Isis c'è Signore mamma mia Con tutto che hai fatto Una giocata scontata Sono riuscito a farti passare Bravo Vuol dire che non sei capace a giocare Occhio a Maicon che si vuole rifare Dopo Che si è dimenticato Praticamente l'avversario Fallo su di tu Dai ragazzi che ci siamo Mai fallo di Cagatomo Io da qui ci provo Ma provaci Che cazzo è che cazzo ti pare Eh no Bravo Un pelino in più Occhio che c'è Zegu Perché Nainggolan Beh la la valla di Redin Regà Fermatelo Non può essere rigore questo Valla per Mauro Riccardi Riprende Icardi Icardi 2-0 Mauro Riccardi signori Oddio spacco tutto Un fenomeno Due tiri due gol Come contro la Juventus Signori Sempre così Segna sempre Mauro Riccardi Tuffa Guadin Non è finita la partita Dai ragazzi Pericoloso Pericoloso questo cazzo Buono capitano Non ce credo Tazzi su A totti di testa Non si può far coprire Esatto Non si può Un gol del genere Era veramente brutto Oh l'avevo fatto il passaggio Mignotto tua madre Così a caso Vai che è solo Vai Edin In area di rigore Ranocchio signore Non ci posso mai credere Ma io avevo messo un irano Maikon in area di rigore Dai che c'è totti al centro Maikon la meta a rimarchio Per il capitano No Mamma mia Brozo Mi sono dimenticato di registrare Madonna L'hanno fatto partire Ma sei serio? No Ci sta Ci sta Che palla Del capitano Non mi prende Vai salà Salà La riaviamo La cattiveria di Salà A proposito di Isis A proposito Di Isis E tu ha fatto una gran giocata Da là Sul Cagatoma Dove è andato Cagatoma? È scappato Il figlio È scappato Perché ha detto questo è dell'Isis E poi se io faccio male Si fa esplorare Per Guarin Madonna Ti faccio il gol di testa Fuori aria Sì come Xander Lascia perdere Oddio Qua c'è il pareto Salutiamolo Ale Salutiamolo Eccola Salà Mamma mia Spregato Mamma mia Ragazzi Ha fatto una cazzata Per tirare il volo Mi sto a cacca addosso Qua è un attimo Che cazzo dici Come mi è uscita Ma chi è questo? Wandermade Il fratello Il ninja va da solo C'è un po' di spazio Sinistra Il turbe Che non si propone Gliela dà lo stesso Nainggolani Il turbe in aria Il turbe Il turbe la potrebbe mettere Al centro Mamma mia Poi Zeko Con il destro Andanovic Mamma mia ragazzi Che sofferenza Partita tesissima Maurizio Mettile in mezzo bene Come Bella La presa Non lo so come Ma Col malleolo destro Tutti Quindi già Guarda che bei cross Che fanno i miei giocatori Incredibile Mamma mia Ok nella zona morta Vecchio Nella zona morta Mamma mia Mamma mia Shesny signori Mi era venuto lo schema Zona morta Grande coso Ma come coso Oddio Ma perché sono Oh mandalo 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 I turbe Sinis Scusa però Ci sta Vada Qua ti sei cagato un gol Ragazzi di mio You don't speak Il primo che prova a scrivere Nei commenti Potevi avanzare di più Io vado sotto casa Potevi avanzare di più Non è andata bene Occhio che però La Roma insiste Ancora i turbe In area la può mettere dentro La deve mettere dentro E no Fuori gioco Fuori gioco Andiamo Fuori gioco Giustissimo Fuori gioco Dall'inizio della partita Però si nota Si nota Mettiamo dentro sta palla No Manco Che scherzo Zego ancora Pallo Edin 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 Pallo Non è possibile Oh salto a cielo Il dio Moho metto Non è possibile Non è possibile Non è vero Cioè Due pali A prete Proviamo a buttarla dentro Non ci credo Traversa Che cosa Che cosa Non ci credo No Non è possibile Cioè C'è qualcosa che non va C'è un quadra Che non cosa Palla per Salah No Angolan Dai Comunque I miei giocatori Non riescono più a tenere il pallone Ma non Cioè Proprio Sono diventati Mongoli Eh vabbè Poi Ma Icon Non ci credo Ma traversa Mamma mia Ma che c'è Iturbe che riparte Iturbe Posizione regolare No Mamma mia Samir Samitico No No Distrutto Peris Signore qua È incredibile Quello che sta accadendo Mamma mia ragazzi Che partita Che partita È molto molto bella Divertente Sì Certo Guarda L'unico mio errore Clamoroso È stato quello Con i turbe Perché Là veramente Ti voglio fare il gollo Come lo chiamo io Alla FIFA 15 Cioè Saltare il portiere Dritto per dritto Eh ma infatti Quello dovevi fare Solo che gli altri Ci ho preso Tre legni In tutto E finisci qua 2-1 Grande vittoria dell'Inter Di sofferenza Ah sì Bella Complimenti Menzo Io ricordo Anche a voi Che sul suo canale Troverete Il ritorno Di questa sfida Che ragazzi Adesso lo devo massacrare Perché dopo questa partita Non si può No? C'è le consapevoli Assolutamente Assolutamente Quindi ragazzi Passate dal mio canale Sarà sotto in descrizione Suppongo Per venire a vedere Il ritorno Iscrivetevi Se vi piace Allora se ti rimetti I pantaloncini in testa Lo metto anche Sulla tua testa Il link Subito Cioè guarda Su Ecco c'è il pantaloncini In testa Perfetto Allora voi andate Di qua o di qua Insomma Sopra comunque Per Per il link Per il canale di Menzo Lasciate un like Se vi è piaciuto Vi ringrazio Per averlo seguito Ci ribecchiamo Per quanto riguarda FIFA Con FIFA 16 Non so se fare un video Sulla demo Ma sicuramente Al day one Vi porterò le impressioni Detto questo ragazzi Niente Passate appunto In descrizione Per il link Se non siete già Iscrivetevi al canale Noi ci becchiamo Con i prossimi video Bella Bella Eccolo Dzeko Ecco Tra me Cioè va tanto Per cambiare No Non dir niente Non dir niente Cioè va tanto Cioè va tanto Cioè va tanto